Benvenuti alla nuova edizione del TG LIS del Consiglio regionale della Basilicata. I consiglieri regionali del centro-sinistra, Trerrotola, Cifarelli, Pittella, Braia e Polese, in una videoconferenza stampa hanno fatto il punto sull'emergenza Covid-19 e hanno presentato in uno spirito collaborativo una serie di proposte al Presidente Bardi, tese ad affrontare l'attuale situazione sanitaria e la grave crisi economica che sta riguardando i settori produttivi della Basilicata. Il documento è diviso in settori strategici e per ognuno di essi sono elencate quelle che, a loro parere, sono le migliori ipotesi al momento percorribili. Anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Leggeri, Perrino e Carlucci, hanno offerto la loro collaborazione al Governo regionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tra le proposte, quella di somministrare, anche in regime domiciliare, alcuni farmaci, quali la clorochina, che sembrerebbe avere particolare efficacia ai primi stadi della malattia. Necessari per i pentastellati, anche presidi di telemedicina e le strumentazioni per il controllo della progressione della patologia da Covid-19. Per il consigliere di Fratelli d'Italia, Viziello, al fine di fronteggiare il coronavirus occorrono diagnosi precoci e cure tempestive. Propone quindi l'acquisto del saturimetro, apparecchio con cui si misura la percentuale di ossigeno nel sangue, da darlo in dotazione ai malati in isolamento domiciliare. Uno strumento, dice, che costa pochi euro, con il quale il paziente può controllare l'evoluzione della malattia e fornire informazioni rilevanti al personale medico. Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Cicala, durante l'ultima riunione telematica dell'Assemblea regionale, ha invitato i consiglieri ad osservare un minuto di silenzio per onorare le vittime del coronavirus e ad esprimere segno di solidarietà per le comunità fortemente segnate da tale emergenza. Uniti con spirito di speranza e gesti di solidarietà, ha detto, possiamo continuare a cooperare per sconfiggere questo virus. Se ci sono stati degli errori che hanno causato la perdita di persone giovani e meno giovani, è giusto che chi ha sbagliato paghi, ma venga giudicato in un'aula di tribunale, non da quella del popolo. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Baldassarre, che ha espresso apprezzamento per la decisione del presidente Bardi di aprire un'indagine immediata per evidenziare eventuali responsabilità e per prendere tutte le misure necessarie e conseguenti. La proposta di piano di bacino regionale del trasporto pubblico locale ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale. Il piano prevede l'organizzazione del bacino regionale in tre unità territoriali ottimali e cinque lotti di gara, nell'ottica di una maggiore concorrenzialità con un conseguente elevamento della qualità dei servizi offerti agli utenti. Approvata anche una risoluzione contenente 25 osservazioni al piano, tra queste la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori. Per il capogruppo della Lega Coviello, l'approvazione della proposta di piano di bacino regionale del TPL è un risultato importantissimo per la Regione, perché è uno strumento strategico per la riforma del trasporto in Basilicata che consentirà finalmente l'espletazione delle gare di appalto nell'ambito del trasporto pubblico locale. Il consigliere di Forza Italia, Cito, si dice soddisfatto per l'approvazione di alcuni suoi emendamenti, come un adeguato collegamento fra la città di Matera e l'aeroporto di Bari, utile per flussi turistici e ricadute produttive anche per il resto del territorio regionale. Per i consiglieri del centro-sinistra, Braia, Polese, Cifarelli, Pittelle e Tre Rotola, aver redatto un piano di bacino senza aver spiegato quale fosse la strategia di sviluppo, è il segno di mancanza di una idea organica. La maggioranza denunciano taglia risorse e chilometri sui trasporti e bocce emendamenti a tutela di imprese lucane, cittadini e lavoratori. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Leggeri, Perrino e Carlucci, pur non avendo approvato la proposta che a loro parere ha visto una genesi poco condivisa, si dicono soddisfatti per l'accoglimento di alcuni loro emendamenti, a partire dalla clausola sociale da inserire nei bandi di gara per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. È tutto, grazie per l'attenzione prestata, l'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie a tutti.